un mazzo di carte normali ok senti fai una cosa prendi pure una carta qualunque lista? si io qui dentro ho una previsione infatti da un altro mazzo di carte ho preso esattamente la tua carta e c'è solamente una carta qui dentro la tua carta è il nome di picca no come no no qual era il giacca di quale no fantastico è lei